Musica Nubifraggio in Lombardia, Grandine su Milano, un albero caduto in un campo scout nel Bresciano provoca la morte di una sedicenne, un ferito grave in Veneto, la solidarietà della Premier Meloni alle popolazioni colpite. Italia, irascibile nei condomini. Nei condomini, anzi, emerge infatti dall'ultima ricerca Ipsos Unipol tra le città più litigiose, Napoli, Roma e Cagliari. I più attacabrighe sono i giovanissimi. Conto la rovescia per la giornata mondiale della gioventù, giunta alla 38esima edizione e in programma dall'1 al 6 agosto a Lisbona, Papa Francesco si rivolge ai giovani attraverso un podcast. Edizione di Mezzogiorno, ben trovati a tutti voi. Buona mattina, in apertura la Lombardia che è schiacciata dal maltempo con blackout, alberi sradicati e molte strade bloccate dall'acqua. Una ragazza di 16 anni è morta in un campo scout nel Bresciano. Ci aggiorna Federico Plotti. Tre eventi meteorologici estremi a distanza di poche ore uno dall'altro, una combinazione devastante. L'ultimo nella notte, una vera e propria tempesta di pioggia e grandina, investito gran parte della Lombardia e anche Milano. In città strade allagate, tetti scoperchiati, alberi caduti. Traffico in tilt questa mattina, problemi anche per i trasporti ferroviari con molti convogli della Trenord Fermi in stazione. Una ragazza di 16 anni è morta uccisa dalla caduta di un albero in Val Camonica nel Bresciano durante un campo scout. La premier, Giorgia Meloni, ha espresso il suo cordoglio e la sua solidarietà alla famiglia della giovane come anche il presidente della regione Lombardia Fontana. La perturbazione si è poi spostata ad est verso il Veneto, che è stato letteralmente bombardato da grandinate con pezzi di ghiaccio grandi, anche come Milano. Danni e feriti nel Veronese, nel Trevigiano e nel Padovano. Lo stato di emergenza regionale sarà aggiornato nelle prossime ore, in vista di nuove importanti perturbazioni in arrivo su tutto il settore nord-orientale, ha detto il governatore Veneto Zaia. Ma ad essere in difficoltà sono anche le città di Catania, ancora con una blackout e senza acqua, e Palermo. In difficoltà i due principali aeroporti della Sicilia. Leonardo Possati. Bruciano le colline attorno a Palermo, brucia Siracusa, brucia Catania. La Sicilia è in ginocchio, da ieri pomeriggio un vasto incendio sta tenendo col fiato sospeso il capoluogo, e in particolare la zona attorno all'aeroporto Falcone-Borsellino. I voli sono stati sospesi per diverse ore, per poi riprendere a metà mattinata. In questo momento poi le fiamme minacciano anche l'ospedale Cervello. Dalla notte i vigili del fuoco sono impegnati nell'operazione di spegnimento. Al momento, secondo la protezione civile, la situazione sarebbe sotto controllo. Nella zona di Pizzosella, diverse abitazioni sono state evacuate perché minacciate dalle fiamme o a causa dell'aria irrespirabile. Le operazioni di spegnimento, ostacolate dalle temperature che hanno superato i 42 gradi e dal vento, da sud ovest, che ha raggiunto i 25 km orari, vanno avanti dalla notte scorsa. Disagi anche in altre città della regione, da Siracusa a Trapani, ma è soprattutto Catania in soffrire. L'aeroporto, dopo il rogo del 16 luglio, lavora ancora al 40% della propria capacità e i disagi sono enormi. Poco fa il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, è arrivato all'aeroporto di Fantana Rossa per verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino degli spazi del terminal maggiormente interessato. A otto giorni dal rogo del terminal A, che ha messo in ginocchio il trasporto aereo in Sicilia nel momento clou della stagione turistica, arriva poi l'iniziativa del ministro Matteo Salvini, che ha convocato per questo pomeriggio a Roma un tavolo al Ministero per trovare soluzioni e ripristinare lo scala aeroportuale quanto prima. Ma a bruciare è anche la Grecia, turisti in fuga dalle isole di Rodi e Corfu, almeno 19.000 le persone evacuate. Sentiamo Francesco Durante. Le fiamme non danno tregua alla Grecia. Nell'isola di Rodi la situazione rimane critica, con vari focolai alimentati da forti venti. Nella notte sono state evacuate circa 2.500 persone da 17 centri abitati dell'isola di Corfu a causa di un incendio boschivo. Impegnati oltre 450 vigili del fuoco e 7 aerei della protezione civile europea per spegnere i roghi, molti turisti stanno ancora cercando di tornare a casa con i voli di emergenza. Siamo arrivati sabato a Rodi, ci siamo registrati nel nostro albergo e già a luna di notte ci hanno avvisati che saremo stati evacuati, dice questo turista tedesco. Poi siamo andati a dormire e alle 10 del mattino ci hanno fatto sgomberare immediatamente, ma è stato un vero e proprio caos. Secondo la Farnesina sarebbero circa 2.000 cittadini italiani presenti nelle aree coinvolte dagli incendi. Ci sono difficoltà dovute ai rientri nel nostro paese con gli aeroporti superaffollati, ma nessun italiano in pericolo, ha affermato il ministro degli esteri italiani. E anche oggi continua l'emergenza, con i roghi divampati anche sull'isola Eubea e per molte regioni del paese permane l'allerta rossa. Caldo record anche in Tunisia, dove le temperature hanno superato i 45 gradi. Marco Bergamaschi. Giornata di caldo record in Tunisia, dove le 18 principali stazioni di monitoraggio meteorologico hanno registrato temperature massime tutte oltre i 45 gradi. Dunque anche il paese nordafricano si trova nella morsa, dal caldo torido nella capitale Tunisia, ad esempio la colonia di Mercurio ha addirittura superato i 56 gradi. Gli abitati cercano di proteggersi dal sole e dalle temperature estreme, indossando cappelli e bevendo molta acqua. E' quanto emerge dai dati dell'Istituto Nazionale di Meteorologia, secondo cui inoltre a Cartagena sono stati registrati 49 gradi. Un reco storico rispetto al precedente di 46,4 gradi, segnato il 1 luglio 1998. Temperature record dunque in molte città. A Bizerta si è arrivati quasi a 49 gradi, a Zagwano oltre 47, a Ifidna la colonina ha superato i 48 gradi, a Tabarca la temperatura è giunta a 47 e a Monastir a quasi 48 gradi. Sempre secondo l'Istituto di Meteorologia questo caldo record persisterà anche oggi nelle regioni centro-orientali e meridionali, con una lieve attenuazione e le temperature massime al nord. Restiamo all'estero, nell'Ucraina in guerra preoccupano le mine attorno alla centrale di Zaporizia. Pierluigi Vito A Kiev è stata un'altra notte di sirene risuonate per tre ore, tanto è durato un attacco russo con droni, il sesto in questo mese sulla capitale. I bersagli aerei sono stati tutti distrutti durante l'avvicinamento alla città, comunica la difesa aerea ucraina. Non così a Mosca, dove due edifici non residenziali sarebbero stati danneggiati da un attacco delle forze nemiche, sempre con droni. Una scelta che poco piace a Washington. La Casa Bianca fa sapere di non appoggiare offensive ucraine all'interno del territorio russo. E questo resta uno dei più forti punti di frizione con Kiev, che intanto deve gestire una controoffensiva che fatica a ottenere risultati, se non quello di imbarazzare il ministro e la difesa Reznikov, che prima deve ammettere che le operazioni sono in ritardo, per poi smentirsi e affermare che tutto procede secondo i piani. E mentre da parte russa proseguono i lanci di bombe a grappolo, che ieri hanno fatto due morti, tra cui un bambino di 10 anni, nella regione di Donetsk e chissà quanti altri ne faranno, gli ordini inesplosi lasciati sul terreno, un nuovo allarme riguarda la centrale nucleare di Zaporizia. L'Agenzia Atomica Internazionale dichiara di aver individuato mini-anti-uomo sul territorio dell'impianto, una situazione che rende il sito sempre più pericoloso, anche perché crea ulteriore pressione psicologica sul personale. Ed ora in Israele, per la riforma della giustizia, nuovi disordini a Tel Aviv e proteste in tutto il paese, ci colleghiamo subito da Gerusalemme con la corrispondente Alessandra Buzietti. Buongiorno Alessandra, a te per gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno, la calma per le strade è tornata solo questa mattina, anche in vista della pausa estiva del Parlamento israeliano. Tra pochi giorni oggi a protestare sono i medici israeliani. Il sindacato di categoria ha proclamato 24 ore di sciopero e negli ospedali sono garantiti solo i servizi essenziali. Hanno avuto bisogno di cure mediche e anche i feriti di ieri nelle manifestazioni di protesta riscopiate molto violentemente, soprattutto in serata. Allora vediamo tutti i dettagli nel servizio che abbiamo preparato. Sono riusciti a sgomberarli da strade e da autostrade solo a notte inoltrata. A Gerusalemme, come a Tel Aviv, poliziotti a cavallo, idranti, sfollagente e un bilancio di più di 30 arresti, di 4 agenti feriti ma anche di 3 manifestanti, travolti e feriti di proposito da un'auto che gli si è lanciata contro. Segnali di una spaccatura profonda del paese che ha da entrambi i lati frange estreme, non aiutano a distensione il muro contro muro dei leader politici. Quello di oggi è stato un passaggio democratico necessario e volto a ristabilire l'equilibrio tra poteri dello Stato, ha detto ieri sera il premio a Netanyahu, offrendo alle opposizioni di tornare al dialogo per trovare un compromesso entro novembre. Un'altra menzogna perché questo governo di estremisti e fanatici non può fare a pezzi la democrazia a mezzogiorno e mandare Netanyahu a dialogare la sera, ha risposto Yair Lapid, leader dell'opposizione che ieri con i suoi parlamentari ha lasciato l'aula per protesta prima del voto che ha approvato, uno dei punti chiave della dibattuta riforma della giustizia. La Corte Suprema non potrà più annullare le decisioni del governo se ritenute irragionevoli e i ricorsi annunciati contro la riforma proprio alla Corte Suprema potrebbero generare uno scontro istituzionale senza precedenti. La speranza è che venga ascoltata anche quella maggioranza silenziosa che chiede un compromesso ed è preoccupata dalle minacce di non presentarsi in servizio da parte di centinaia di riservisti che potrebbero mettere in serie difficoltà l'eserto israeliano in un momento di forte turbolenza anche sul fronte palestinese. Tre miliziani armati sono stati uccisi stamattina vicino a Nablus in uno scontro a fuoco con alcuni soldati israeliani. A Roma intanto proseguono i lavori del vertice FAO, aperto ieri dal segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres. Sul tavolo le conseguenze del mancato accordo sul grano tra Mosca e Kiev. 43 milioni le persone che nel mondo rischiano di morire di fame e 122 quelle in crisi alimentare. E vediamo ora la politica italiana con lo scontro sul salario minimo che fa discutere nel giorno della cerimonia del ventaglio. Sì al dialogo sul salario minimo ma la sinistra scopre sull'ora il precariato. Il presidente del Consiglio in un'intervista a RTL apre al confronto con le opposizioni sul salario minimo. Cavallo di battaglia di PD e 5 Stelle che tuttavia non si fidano delle aperture della Premier. Prime prove di dialogo comunque in attesa del voto in Parlamento di giovedì con la maggioranza che potrebbe votare un emendamento soppressivo che di fatto cancellerebbe la proposta delle opposizioni di inserire il salario minimo. Confronto politico che si alimenta anche per il voto di sfiducia alla ministra del Turismo Sant'Anché previsto domani in aula al Senato. Lavori parlamentari che si intensificano in vista della pausa estiva in occasione del ventaglio e il trinare appuntamento con la stampa parlamentare. Il presidente della Camera Fontana ha fatto il punto su tutto quello che è stato fatto nel corso del primo anno di legislatura. In particolare si è soffermato sull'utilizzo della decretazione d'urgenza e sul ruolo del Parlamento da Fontana anche la promessa di aprire un asilo nido alla Camera. E noi puntiamo, perché è già stata approvata proprio all'inizio di legislatura, di avere uno spazio anche per i bimbi, una specie di asilo dove probabilmente potrebbe essere strutturato a Palazzo Teodoli. Un italiano su tre ha discusso almeno una volta con i vicini animando un'accesa discussione. Lo afferma all'ultima ricerca Ipsos Unipol che scatta una fotografia sulle liti condominali. Erika Calvani. Odori di cucina speziata nelle aree comuni, acqua che cade dal balcone sovrastante, il cane che abbaia o il parcheggio dell'auto fuori dagli appositi spazi sono solo alcune tra le cause dei liti condominali. Un italiano su tre conferma di aver avuto almeno una volta un'accesa lite con il proprio vicino, un fenomeno in crescita, come sottolinea l'ultima ricerca di Ipsos, commissionata da Changes Unipol con l'obiettivo di fotografare i rapporti tra vicini e l'apprezzamento per l'operato dell'amministratore. Secondo l'indagine, 7 italiani su 10 vivono in un contesto condominiale. Il più delle volte però i vicini sono quasi degli estrani. Solo il 37% risulta avere rapporti abbastanza frequenti, ma questo non frena l'innesco di conflitti per i motivi più disparati. Tra le città italiane più litigiose svetta Napoli, seguita da Roma e Cagliari, quarta per percentuale di liti condominali invece è Torino. Generalmente i motivi di litigi sono il rumore eccessivo e i comportamenti dei condomini considerati inopportuni e fastidiosi, ma in Campania si discute più che nel resto d'Italia per i parcheggi ritenuti selvaggi. Roma si distingue per le liti legate alla gestione di animali domestici, mentre Torino per la raccolta differenziata. Ad avere più discussioni con i vicini sono i più giovani, nella fascia d'età tra i 16 e i 26 anni. L'amministratore di condominio non è la figura più amata dagli italiani. Un condomino su due è scontento del suo operato per la scarsa capacità di risoluzione dei problemi. E quanto gli italiani partecipano alle riunioni condominali? Quasi 3 su 4, ma soltanto 2 italiani su 10 rimangono soddisfatti, lamentando assenteismo o scarsa frequenza e l'impossibilità di dialogare civilmente. GMG tutto pronto per la 38esima giornata mondiale della gioventù che si celebrerà tra una settimana in Portogallo a Lisbona. Il Papa ha parlato ai giovani attraverso un podcast. Rita Salerno. Mancano ormai una manciata di giorni alla giornata mondiale della gioventù di Lisbona e il Papa Francesco si rivolge nuovamente alle nuove generazioni scegliendo il podcast. Alla vigilia del raduno mondiale in programma dal 1 al 6 agosto in Portogallo, Bergoglio è il protagonista insieme ad un gruppo di ragazzi con i quali si confide e si racconta di una nuova puntata di podcast dopo il primo realizzato a marzo per i 10 anni di pontificato. Diverse le provenienze dei giovani. Ci sono due detenuti, una ragazza con disturbi psicologici, un adolescente appassionato di videogiochi e un disabile transgender. A Giona, giovane omosessuale e transgender, credente che vuole condividere la sua storia, il Papa spiega che Dio ci ama così come siamo. E ci accarezza sempre, mentre a Edward e Valeri, il rumeno il primo e il russo il secondo, fragili anche se dalle vite violente, dedicate allo spazio e alle rapine, Francesco ricorda che gli sbagli non devono mai affossare la vita. Con Arianna affetta da un disturbo bipolare, il Papa si commuove e la invita a non perdere l'avventura della vita. E a Valeria, che invece parla a nome dei giovani come portavoce delle loro istanze, Francesco sottolinea che la Chiesa non è una setta religiosa chiusa in se stessa. È tutto, vi lascio al meteo. Prossima edizione del TG2000 alle 18.25. Grazie al vostro tempo, buona giornata. Arrivederci. Grazie al vostro tempo, buona giornata. Grazie al vostro tempo, buona giornata. Grazie al vostro tempo, buona giornata. Grazie al vostro tempo, buona giornata.